Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Finiusi. Ci spostiamo a Ragusa dove è già a lavoro il gruppo di lavoro per la sicurezza istituito nei mesi scorsi con l'obiettivo di intensificare le attività di controllo del territorio comunale da parte delle forze dell'ordine. Vediamo. Si è tenuta nei giorni scorsi presso la prefettura di Ragusa la prima riunione del gruppo di lavoro sicurezza le cui finalità sono quelle di dare attuazione al patto sulla sicurezza sottoscritto alla presenza delle forze dell'ordine lo scorso 21 aprile 2011 dal prefetto e dal sindaco del comune di Ragusa allo scopo di intensificare le attività di controllo del territorio comunale e di promuovere i piani di qualificazione del tessuto sociale. Nel corso dell'incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'amministrazione comunale della Questura dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si è preso atto della costituzione di un apposito fondo speciale grazie al quale potranno essere opportunamente finanziati secondo le indicazioni che scaturiranno delle valutazioni che emergeranno all'interno del gruppo servizi, beni e strumenti destinate alle finalità del patto mentre è stato espresso l'ospicio di dare attuazione alla possibilità di estendere il protocollo ad altri enti locali della provincia secondo i criteri stabiliti dal patto. Inoltre sono state prioritariamente individuate fra le attività indicate nel documento alcune iniziative attinenti più specificatamente all'attività di controllo e di contrasto alla illegalità come il potenziamento dei sistemi di video sorveglianza nel capoluogo la sicurezza stradale, il contrasto all'abusivismo commerciale ed altre che si pongono sul piano della prevenzione generale come l'accattonaggio e il reinserimento sociale dei carcerati e il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. Ebbiamo adesso una pagina dedicata alla sanità. Si è svolto questa mattina a Vittoria un incontro tra il sindaco Giuseppe Nicosia e il direttore generale dell'ASP Ettore Gilotta ma sentiamo nel servizio di cosa si è discusso. Un invito al dialogo e alla concertazione questo è il tema dell'incontro avvenuto stamani a Palazzo Iacono a Vittoria tra il primo cittadino Nicosia e il manager dell'ASP 7 Gilotta presenti anche i componenti dell'Aggiunta, il presidente del Consiglio Comunale di Falco e i capigruppo consigliare esaminati in particolare alcuni aspetti legati all'ospedale Guzzardi e all'intero comparto sanitario locale. Quello su cui vogliamo accentrare l'attenzione sul personale medico-infermieristico che va sicuramente rafforzato per quanto riguarda l'ospedale di Vittoria. Sentiamo giustamente che ci sono dei tagli a livello regionale ma da quest'estate abbiamo posto il problema e sensibilizzato per un potenziamento e una difesa dell'ospedale di Vittoria e ci rivediamo per sapere quali sono le prospettive e soprattutto per chiedere ovviamente che ci siano segnali tangibili di aiuto alla sanità vittoriesa. Scelta dunque una politica orientata al confronto e all'incontro in vista di un miglioramento della sanità iblea tutta e tanti sono i programmi a breve termine che verranno realizzati. Continua, io dico, continua la buona prassi di incontrarci e di parlare e di condividere gli obiettivi di sapere che i problemi non sono solamente da una parte ma sono di tutte le parti. Io vorrei fare la festa dell'ultima pietra i primi mesi, credo che entro il primo trimestre del 2012 la festa dell'ultima pietra della risonanza magnetica nucleare. La gara è stata giudicata dalla capofila Garibaldi di Catania e stiamo lavorando per rispostare alcuni locali. Annunciato inoltre un ampliamento dell'organico tra il personale sanitario dell'ospedale. E sempre a proposito di sanità, l'incontro di oggi a Vittoria è stata anche un'occasione per approfondire alcune tematiche in merito al futuro dell'ospedale Regina Margherita di Comiso su cui è intervenuto lo stesso Gilotta. Attenzione ancora alta sull'ospedale Regina Margherita di Comiso lo ha annunciato stamane il managerettore Gilotta durante l'incontro che si è tenuto a Palazzo Iacono a Vittoria per discutere del destino dell'ospedale Guzzardi. Interesse sempre alto dunque quello che l'azienda sanitaria mostra nei confronti di tutto il versante Ipparino. Annunciato inoltre un sopralluogo da parte di Gilotta all'ospedale Casmeneo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori nel quale comunque il manager si dichiara fiducioso e ottimista. Previsto inoltre entro l'anno l'arrivo di un mammografo che si inserisce all'interno della campagna di prevenzione che l'azienda da anni promuove. Voglio dire che sono partiti gli screening di mammografia aperte sul versante Ipparino e i cittadini saranno contattati direttamente dai medici di famiglia per sottoporsi a questo esame importante, molto delicato per una prevenzione delle patologie degenerative della mammella. Un impegno importante dunque mostrato all'innomani della riunione fra i vertici e una delegazione del Comitato Cittadino per la Difesa dell'Ospedale durante la quale sono stati discussi i tempi di attuazione degli impegni presi a Palermo in occasione dell'audizione presso la Sesta Commissione all'Arse. I vertici dell'Aspera Gusana hanno inoltre garantito che entro la prossima settimana e con risorse dell'ente di Piazza Igea le ambulanze del 118 saranno dotate di medico a bordo. Per giorno 20 dicembre è previsto infine un nuovo incontro fra la delegazione del Comitato Cittadino per la Difesa dell'Ospedale i rappresentanti istituzionali del territorio e i vertici dell'Asp 7 di Ragusa allo scopo di monitorare la fase di attuazione degli impegni presi sia a Palermo e sia a Ragusa. Ci occupiamo adesso della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità a Vittoria. La CNA è intervenuta per proporre la sospensione del pagamento per le imprese al 31 dicembre. Vediamo il servizio. Chiediamo che gli attuali avvisi che il concessionario ha notificato siano sospesi fino al 31 dicembre di quest'anno. Interviene così la CNA di Vittoria sulla vicenda dell'imposta comunale sulla pubblicità. L'IMPA, la concessionaria del Comune che si occupa della riscossione della ICP, nei giorni scorsi ha inviato alle imprese, come ricorderete, gli avvisi di accertamento del pagamento dell'imposta, avvisi che, come afferma il presidente della CNA territoriale, Giuseppe Santocono, dal 1 ottobre 2011 diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica per effetto della manovra finanziaria. Ma, ed è qui il problema, secondo la CNA numerose di queste cartelle presentano delle anomalie, quindi c'è il rischio che con il passare del tempo sia necessario pagare comunque, giusto o sbagliato che sia. Il responsabile organizzativo CNA, Giorgio Stracquadagno, aggiunge «Si può fare nel frattempo ricorso ad un giudice tributario, ma trascorsi 270 giorni complessivi scatta l'espropriazione forzata, ancora prima che il giudice si sia pronunciato. Allora, invece di generare numerose richieste di sospensione da intasare, se non addirittura bloccare, l'attività della giustizia tributaria, sarebbe più opportuno che il Comune sollecitasse l'IMPA a sospendere rapidamente tutti gli avvisi notificati, da qui la proposta di sospendere gli attuali avvisi sino al 31 dicembre di quest'anno». Restiamo ancora nel Comune Epparino. L'AMIU, nell'ambito delle proprie attività, volte a migliorare gli standard qualitativi aziendali in termini di sicurezza, ha aderito al progetto Azienda Sicura. Ma sentiamo di cosa si tratta nel servizio. L'AMIU di Vittoria aderisce ad Azienda Sicura. «È un progetto di formazione del personale assolutamente gratuito, le cui finalità sono la promozione della qualità del servizio e la soddisfazione del cliente, la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, la promozione delle pare opportunità, la riqualificazione professionale, l'adeguamento e la riconversione delle competenze professionali, nonché l'aggiornamento continuo». Il piano formativo Azienda Sicura, proposto da Atome 4 S.P.A. di Messina con l'AMIU, ha come obiettivi la diffusione della conoscenza dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione di personale qualificato per realizzare interventi di sensibilizzazione alle tematiche ambientali ed in particolare alla riduzione dei rifiuti organici solidi e alla raccolta differenziata, la formazione di informazione del lavoratore in merito ai rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro in cui opera e alle misure di prevenzione. I corsi sono rivolti ai dipendenti designati alla sicurezza e agli impiegati. Si tratta infatti di interventi finalizzati ad approfondire i sistemi di gestione delle emergenze, nonché le nozioni base per creare un ambiente di lavoro sicuro. Il progetto prevede quattro tematiche che sono salute e sicurezza sul lavoro, gestione aziendale e amministrazione, salvaguardia ambientale, conoscenza del contesto lavorativo. Ogni area tematica è strutturata in moduli di durata variabile, ognuno dei quali verrà riedito per consentire all'azienda di impegnare per ogni edizione un numero di dipendenti relativamente basso, senza dunque generare interruzioni nel flusso di lavoro. E' stata presentata questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Ragusa l'iniziativa Ragusa Oggi e Domani, ma vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Una settimana dal 2 al 9 dicembre, dove il presente ed il futuro del Centro Storico di Ragusa Superiore saranno sotto i riflettori attraverso una serie di dibattiti e spettacoli serali. Si tratta di Ragusa Oggi e Domani, l'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa questa mattina e punta a richiamare l'attenzione sulla realtà del Centro Storico di Ragusa. Nei dibattiti si parlerà di ciò che è stato fatto e di quello che si deve ancora fare dal punto di vista progettuale. Tutto ciò si andrà ad unire ad alcuni spettacoli ai mercatini di Natale che saranno organizzati per tutto il mese di dicembre. I vari appuntamenti mirano anche a diminuire il gap creatosi con il Centro Storico di Ragusa Ibu. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo che potrete seguirci anche online al sito internet www.offritvonline1.it e che da domani l'edizione pomeridiana è anticipata alle 14. Vi auguro un buon proseguimento. www.offritvonline1.it